in un condominio il vigente ungherese a cura dvb sono nato in un appartamento al settimo piano della scala b di un condominio popolare in un quartiere di roma nord mio padre e mia madre litigavano spesso soprattutto la sera tardi quando mia madre aveva modo di vedere mio padre di accusarlo di essere un puttaniere e di non darle i soldi per la spesa mentre lui si faceva cocire vestiti su misura da un compaesano molto costoso che era il sarto dei vip a roma rare volte durante la notte udivo gemiti di piacere quando mio padre prendeva mia madre per eseguire i suoi doveri coniugali la mattina poi mia madre apriva cassetti muoveva sedie era agitata preparava la pizza rustica da portare al parroco della chiesa dei santi onorio e adeodato un giorno mia madre decise di far pedinare mio padre pagò un poliziozzo privato con i soldi della spesa e seppe che mio padre invece di andare in ufficio si era seduto in una pasticceria di piazza e sedra dove ad aspettarlo c'era una giovane donna una bella ragazza sentenziò il poliziotto privato dopo un po suo marito le prese anche la mano delicatamente aggiunse il poliziotto e poi chiese angosciata mia madre poi niente rispose il poliziotto che voleva che facessero l'amore a piazza e sedra da quel momento nell'animo di mia madre calò il grigiore della moglie tradita che non si rischiarò mai sino alla morte in cui la recidiva del cancro al seno la ridusse un pugnetto su un cuscino troppo grande fu nel periodo in cui mia madre inseguiva mio padre che nel condominio giunse un uomo magro e dalla faccia sofferente che si chiamava Ferenc Takaks la signora B si presentò all'uomo il condominio e disse che era un veggente ungherese che fuggiva dal comunismo del suo paese aggiunse che Ferenc aveva bisogno di soldi per pagarsi il biglietto aereo per gli stati uniti e che avrebbe letto la mano ai condomini in cambio di un'offerta libera il veggente raccontò entusiasta dei suoi viaggi fuori del corpo in cui vedeva la virginia addolcita dal verde e la georgia e mississippi che splendevano del bianco e della rosa del cotone in fiore disse che durante i suoi viaggi vedeva anche il texas e la sua costa lungo il golfo del messico dove la natura era sempre in vantaggio su quella che nel suo freddo paese non era ancora sbocciata il veggente era anche un poeta mia madre e le altre signore del condominio ascoltavano rapite Ferenc Takaks e facevano a gara nell'invitarlo a pranzo e a cena fino a quando la signora Bissi che aveva più di 70 anni ed era stata sempre una casalinga che non aveva mai viaggiato chiese per prima a Ferenc di leggerle la mano e il futuro che per lei aggiunse sarebbe stato molto breve quel pomeriggio alcuni condomini della scala B erano assiepati nella casa dove al nono piano la signora Bissi viveva con le figlie Tina e Sara di là dalla finestra sfilava il traffico nelle strade umide del Tevere che d'estate ci costringeva a un bagno nella colla liquida la signora Bissi era stata per molti anni l'amante del signor Bissi famoso a Roma per i suoi gelati che vendeva in un grande caffè nei pressi di piazza fiume dal suo amante che non l'aveva mai sposata la signora Bissi era mantenuta quasi in elemosina con le sue due figlie avute da lui qualche volta mia madre come compenso per un po d'olio che la signora Bissi le chiedeva quasi giornalmente riceveva uno spumone il gelato che produceva il signor Bissi. Mia madre divideva lo spumone con me o con qualche compaesano di San Cesare dei Goti che spesso dormiva nel corridoio del nostro appartamento di due stanze in attesa di tentare a Roma qualche concorso per un posto fisso nello stato. Quel pomeriggio Ferenta Cax impugnò la mano lenta e rugosa della signora Bissi. Era in uno stato che molti anni dopo avrei definito di transvigile si unì alla vita futura della signora Bissi. Il vigente aveva consapevolezza di stare ancora con i condomini di via Fidelio Borghesi ma nello stesso tempo era in una dimensione che conosceva solo lui e che molto tempo dopo avrei chiamato piano astrale. Signora disse Ferenc alla signora Bissi col suo italiano stentato lei partirà per gli Stati Uniti. Non so dove né quando ma ne sono sicuro lei partirà per l'America chiamata da sua figlia Tina. I condomini guardarono molto delusi il vigente e la signora Bissi che aveva più di 70 anni e infine Tina e Sara le sue due figlie che fino allora avevano concepito come unico viaggio quello che la domenica le portava al mare di Ostia o al massimo al mare di Ladispoli. Il colonnello di cavalleria Carretti abitava nella scala A la più signorile del condominio. Per una caduta da cavallo claudicava scartando curiosamente con la gamba sinistra. Intervenne stranamente perché non si degnava di partecipare nemmeno alle riunioni di condominio e sentenziò è impossibile che la signora Bissi cambi vita alla sua età. Io invece vedo e ne sono sicuro che questa donna partirà per gli Stati Uniti ripetè il veggente. Il giorno dopo sempre nella casa disordinata e dimessa della signora Bissi fu la volta di Tina la maggiore delle sue due figlie. Quando ebbe nella sua la mano di Tina sempre in trans vigile il veggente predisse un evento che ci sembrò ancora più incredibile. Disse che Tina sarebbe andata in America e che lì avrebbe vissuto fino alla morte ma, e qui la sua veggenza non riuscì a giungere, non sapeva come, quando e perché. Disse solo che i motivi per cui Tina sarebbe andata in America, quelle scene del suo futuro, gli apparivano confuse e instabili, molto emotive, tanto che il veggente le definì scene astrali. Il giorno ancora seguente fu la volta di Sara, la figlia più giovane della signora Bissi. Il veggente disse che Sara sarebbe stata una ragazza madre di una bambina e che si sarebbe sposata col padre della bambina con cui avrebbe avuto un secondo figlio. Poi si sarebbe separata, infine si sarebbe riunita con l'ex marito che nel frattempo sarebbe andato in Nuova Zelanda per cercare lavoro. Il veggente non vedeva con chi Sara si sarebbe sposata e gli sfuggiva anche il motivo per cui sarebbe poi partita con i due figli per la Nuova Zelanda. Era certo però che il paese della sua nuova vita sarebbe stato quello. Nei giorni successivi, dall'appartamento al nono piano della famiglia Bissi, il veggente scese a casa mia, che era al settimo piano, dove travide, così diceva, la mano di mia madre è mia. In mia madre il veggente destò gravi preoccupazioni perché disse che si sarebbe divisa da mio padre che, abbiamo visto, mia madre chiamava puttaniere. Precisò però che all'inizio la divisione sarebbe avvenuta per un errore di mia madre. Il veggente esaminò anche la mia mano. Io allora ero dodicenne e subito esclamò, quante pigro! Nella mia piccola casa erano entrati dieci o dodici condomini e stavamo uno addosso all'altro. Il ragioniere Gian Antonio, nostro vicino di Pianerottolo, un uomo ossuto che mi aveva tenuto a battesimo, era appena tornato dalla casa di spedizioni dove lavorava e commentò la frase del veggente. Sì, io glielo dico sempre che deve studiare di più. Il veggente aggiunse, alla mano che deve ancora formarsi, però vedo per lui un futuro da chirurgo, da musicista o da scrittore. mia madre, che mi scrutava con le mani ai fianchi, dopo aver ascoltato la veggenza sulla mia pigrizia, si ricompose e rapidamente tornò a preoccuparsi per la separazione da mio padre, che, come le aveva predetto il veggente, sarebbe stata causata da un suo errore. A questo punto il colonnello Carretti, molto scettico, chiese al veggente, ma lei sa qualcosa del suo futuro? Eh, rispose il veggente brevemente, io morirò bruciato. E non aggiunse altro.